Ciao, chi sei e di cosa ti occupi? Sono Roberto Gabriele, lavoro in banca, dirigo in lo sportello bancario, provincia di Rosinone. So che hai partecipato a Percicorsi durante la tua vita, quante società di formazione hai conosciuto? Prima di arrivare all'Accademia dei Coach ho frequentato corsi di formazione presso altre 5 società. Ok, e che idea ti sei fatto dell'Accademia? È una società completamente diversa dalle altre. Per quale motivo? Quando facevo altri corsi, alla fine era come se restasse qualcosa in sospeso dentro di me, come se il percorso fatto fosse incompleto. Con l'Accademia dei Coach, invece, sento pienamente appagato alla mia voglia di crescita interiore. Ok, cosa pensi di Marco Valerio Ricci? Marco Valerio Ricci è un master trainer unico nel suo campo, per la mia esperienza, per quanto è altro conosciuto, perché veramente mette, come priva nella sua vision, c'è veramente, al di là delle parole, la crescita delle persone che frequentano i suoi corsi. Ok, cosa pensi del fatto che i corsi sono in formula residenziale, isolati, nella campagna, lontano dalle città? Penso che sia un abbinamento vincente, in quanto nel momento in cui stiamo alla ricerca del nostro seppio profondo, stare in mezzo alla natura, in un ambiente così calmo, tranquillo, può soltanto contribuire ad aiutarci in questo percorso. Hai partecipato alla libertà di essere se stessi in questi giorni, giusto? Sì, ho partecipato alla libertà di essere se stessi e sono contento di questo, perché è un corso che mi ha dato tanti spunti di riflessione e mi ha fatto riflettere in particolare su come deve essere impostata in futuro la mia costante ricerca della crescita interiore. Farei altre cose con l'Accademia di Coach? Sicuramente sì. Ok, grazie Roberto, ciao. Ciao.